L'assistenza del TAR conferma quanto stabilito dall'antitrust, boccia tutti i motivi di ricorso delle banche e quindi statuisce in forma giuridica un giudice amministrativo che stabilisce quello che era già stato detto dall'autorità garante, quindi che le banche hanno una corresponsabilità in quanto è avvenuto e devono risarcire i loro clienti e hanno la loro parte di responsabilità. Questa sentenza ha un valore molto importante perché qualora non venga impugnata può essere direttamente utilizzabile in un giudizio e quindi dà uno strumento in più alle persone truffate, alle persone coinvolte in questa vicenda per ottenere anche davanti a un giudice civile, quindi anche in una causa privata, un risarcimento adeguato per il danno partito.